il miglior caniamo di ottaia ragazzi ora vi faccio vedere qual è l'è comunque c'è anche il pollo buono io mi pido sempre quello lì quello è il maiale la te sarebbe la tipo pancetta e si trova proprio davanti al 7nawat 7nawat sarebbe il 7-eleven che si affaccia davanti al tempio 7nawat e sarebbe il tempio Wat Kosa Menkun, il tempio reale di Atayai cipolla secca camiao riso appiccicoso e il maiale fritto è buona questa sera si sgranano grazie